Si è aperta ieri la terza edizione dello Shaka Film Fest, il festival internazionale di cortometraggi e documentari, nonché rassegna di film d'autore, che per il secondo anno consecutivo prende vita negli incantevoli spazi monumentali della Badia Grande. In apertura, nel cortile Orchidea, l'evento Videomakers in erba, rassegna di corti creati per e con i ragazzi delle scuole elementari e media inferiori, tra le quali il circolo didattico Sant'Agostino di Shaka. E per la sezione Incontri con l'autore, la proiezione del film L'uomo Fiammifero, metafora sull'adolescenza di Marco Chiarini. Il primo, il secondo e il terzo bosco, fino alla Volpà, volerà lontano dal porcine di papà, ma soprattutto lontano a quel tritacano e dirbino. Fiuterà tutte le tracce del L'uomo Fiammifero, Lino lo porterà fino a qui e a quel punto, a quel punto lo verrà anche papà e finalmente ci crederà. E' ancora un evento dedicato ai ragazzi, questa volta delle scuole superiori, la proiezione del film Vedo Zero di Andrea Caccia. Il progetto audiovisivo creato attraverso i video girati con i propri cellulari da ragazzi in tutta Italia, per interrogarsi ancora una volta sull'adolescenza, l'amore, le aspirazioni e i sogni in un momento più che mai incerto del nostro paese. Per la sezione Documentari la proiezione di The Cambodian Room di Giuseppe Schillaci. Il film svela la parte nascosta della vita arte di Antoine Dagata, la sua scelta di vivere il sesso e la droga come cura e come perdizione, un percorso apocalittico e sublime, simile a quello di altri artisti eretici della cultura contemporanea, come Kerouac, Artaud, Bacon e Pasolini. E ovviamente non sono mancati i veri protagonisti del festival, i corti in concorso per aggiudicarsi il Melkart, simbolo del festival. In programma i primi quattro titoli, Salim, Oggi come ieri, Xiezi e Oggi gira così. Novità di quest'anno, la possibilità per il pubblico di votare i corti in concorso segnando con una X il titolo preferito sulle cartoline che si possono trovare alla Badia Grande. Tra tutte le cartoline, ogni giorno da sabato, ne verrà estratta una che vincerà un abbonamento valido per 12 film nelle sale del Cine Campidoglio e della Multisala Badia Grande.